Catania riebraccia la sua santa nel giorno dell'ottava, che segna la conclusione delle feste agatine. Avviene oggi l'ultimo incontro tra la patrona e i devoti. Al termine delle celebrazioni religiose e della processione del busto e dello scrigno in piazza Duomo, le sacre reliquie verranno riposte nella cameretta fino alla festa del prossimo agosto. Un bilancio positivo quello delle celebrazioni di questi giorni. Una festa più serena grazie alla compostezza e alla disponibilità dei fedeli, come ha sottolineato Monsignor Barbaro Scionti, e più sicura e rispettosa delle tradizioni grazie a qualche accorgimento di natura organizzativa e tecnica, come ha dichiarato il maestro del Fercolo Claudio Consoli.